Ciao, voi siete? Francesca Ok, contenga le risa lei Valentina E Valentina, avete portato in questi due giorni dei balli di primavera che costumi? Allora, il primo giorno abbiamo portato due abiti da Kuro Shizuji ed erano un'illustrazione speciale con un tributo al mistero di Sleepy Hollow perché il mio abito era quello uguale della fine di Katrina Van Tassel e ieri abbiamo portato Code Geass con la coppia di Eufemi e Suzaku per fare il ballo romantico insieme Il ballo romantico, giusto, molto romanticismo c'è stato al ballo, l'abbiamo visto e ce l'hanno parlato tante cubitte, una cosa bella E oggi invece? Oggi invece abbiamo due vestiti da Umineko Nonaku Koroni Quando i gabbiani piangono Quando i gabbiani piangono Sempre così allegri i giapponesi Sì, mamma mia, no, è una serie molto splatter di visual novel in cui io sono piccola adesso ma poi diventerò grande e cattiva Stocchi le braccia Ok, brava, brava, bello, ci piace lo splatter Bene, il ballo, voi è la prima volta che venite? Siete già venute? No, è la prima volta, infatti quando facevano le altre edizioni io ero sempre lì Oh mio Dio, voglio andare, voglio andare, infatti quest'anno vorremmo rifare il ballo Ci siamo Ci siamo, subito Appena l'hanno detto anche solo Bene, bene, vi siete divertite immagino Molto Sì E cosa ci volete dire del ballo? Vi è piaciuta la villa, il fatto di poter fare le foto? È bello tutto E vabbè, a parte tipo il... E io che ora dobbiamo essere lì le undici, mezzogiorno e mezza, ma questa è la nostra organizzazione carente E è bello il posto, è bella l'idea, è bello stare tutti quanti insieme, quindi cioè, tutti gli amici, si fanno i gruppi stupidi, le foto, si sta bene Esatto, è una cosa molto rilassata, priva delle tensioni di eventi con gare, si viene per... Si viene per stare insieme, poi il vestito è un fatto collaterale, cioè secondo me ci saremmo divertiti molto anche se fossimo stati in jeans e maglietta Infatti Ognuno è... oh, voglio farmi vedere nel mio abito, allora E vabbè, uno è capace di farlo, lo fa bello e vuole anche farlo vedere Ci si prova Una cornice comunque che... Assolutamente Perché ne parlavamo precedentemente, fare la foto con vestiti simili, con come parete un cemento armato È molto triste, anche quelle da studio con lo sfondo bianco, sì una è bella, però vuoi mettere con la location è... Un'altra cosa, un'altra cosa, esatto Bene, grazie mille Lei ha dovuto aggiungere qualcosa, vuoi dire qualcosa che è tipo ciao? Di ciao Ciao Ok, bene, hai detto ciao Ho parlato Il nome e ciao Bravo, ottimo Non ho il libero Grazie mille, allora Prego Buon proseguimento Grazie Ciao Ciao Sì Tantissimo, ok Ok, allora... Però parli tu che conosci bene o mini eco Non farmi parlare Ah boh 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 Vieni qua No Dai 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 Ma se non dovete raccontarmi voglia cosa Adesso ti racconto tutta quanta la trama, sono sette tutte insieme e te la racconto tutte Va bene Va bene, allora mi raccontare tutta la trama Tanto noi siamo qui, abbiamo ore e ore di filmato, la mettiamo su senza problemi Va proprio andare avanti ore e ore e ore Va benissimo, tanto... Io, allora, però dovrei avere problemi tenere sul microfono dopo qualche ora, però... È vero È vero, è vero, cavolo, non ce l'ho pensato No, non prendetemi in giro Invece che tra la telecamera, troppo Portiamo oltre piedi per il microfono, la lasciamo qui Voglio l'asta e questo non c'è organizzato Eh, quello non ce l'ho, cavolo, l'asta non l'avevo pensato Eh, lo so... Va bene, ci siamo? Ah, sta giro Ah, cosa fai? No, fermo! Io avvicino il microfono, a favore, che è... Va bene, ok Andiamo, proviamo ad essere seri un attimo, ci ricomponiamo Ok, no, potete anche non essere seri, tanto... Ok, mi faranno le linguacce, sicuramente Va bene Ci siamo? Ok